Tra fontanelle di cioccolata, profumi di cacao e panorami di torte da sogno, i viaggiatori in transito nella stazione marittima di Napoli, nel lungo ponte fino al 4 novembre, potranno credere di essere approdati in un autentico paese della cuccagna. Ospitata nel monumentale edificio, si è aperta la seconda edizione di Chocoland, mostra mercato e non solo di quanto la produzione artigiana italiana può realizzare quando è unita alla creatività napoletana. Dalle caffettiere moca di tutte le dimensioni, alle scarpe tacco 12 ispirate ai modelli di celibri griff, dai tablet agli smartphone, ai ferri da stilo, agli spazzolini e ai rossetti fino ad ogni tipo di strumento di lavoro, pinze, tenaglie, forbici e rasoi, dalle macchine fotografiche ai lugubri personaggi di Halloween. Non c'è oggetto che non sia stato perfettamente riprodotto dagli artigiani napoletani con purissimo cioccolato in tutte le sue variazioni. Ne è convinto il patron Francesco Celentano. Siamo contentissimi di aver inserito nella capsula del cioccolato, come dice una mia cara amica, anche la nuova branch del cake che ha valorizzato molto di più ovviamente l'evento e sicuramente trascinerà ovviamente un maggior interesse nei confronti delle manifestazioni. La scorsa edizione furono i 90.000 tra cittadini e turisti a curiosare, assaggiare e acquistare tra gli stand. Quest'anno gli organizzatori di Shake Up Italia hanno voluto arricchire il programma di eventi con la prima Cake Design Week in omaggio alle torte e opere d'arte di tipica tradizione anglosassone, tanto di moda anche da noi. Chi fa decorazione comunque deve avere una grande manualità e di conseguenza la maggior parte dei cake decorator sono architetti o hanno fatto istituti d'arte o sono grafici. anche io sono architetto e mi piace decorare e lavorare con le mani.